Maresciallo, buonasera, come va maresciallo? Tutto a posto. Ma no maresciallo, stavo venendo proprio da lei, stavo venendo. No, sono io che stavo venendo da lei. Ma no, bene o male, ci siamo incontrati, ci siamo incontrati. Allora, allora, novità? Lei la scorsa settimana, aveva fatto la denuncia di scomparsi di sua moglie. Lo so, lo so. E allora, buone notizie. Cioè? Abbiamo ritrovato sua moglie. Non mi dica, veramente maresciallo. Una operazione di blocco dei carabinieri, tre ore fa l'abbiamo trovata. Ma no, ma no, mi sento proprio un altrettanto, mi sento, veramente. Ma, ma, ma. Maresciallo, mi dica, quando l'ha trovata, lei, mia moglie, che cosa ha detto? Perché lei è una... che cosa ha detto? Niente. Come? Come niente? Oh, non ha detto niente. No, maresciallo, no. E allora non è lei, maresciallo. No, non è lei, maresciallo. Quella parla assai, capito? Ma è quella l'unica parla... Maresciallo, non è lei.